Mauro Fioriberti su Movimento 5 Stelle Scusate, Freschi Freschi, Bersani, Cantone, Carla Sarre, Di Matteo, Imposimato, Lannutti, Maddalena, Prodi, Settis, Zagrebelski Sono questi i dieci nomi venuti fuori dall'Assemblea dei 5 Stelle che domani gareggeranno in rete C'è chi non sembra entusiasta Non so, guarda, non mi puoi dire dei nomi buttare così Li guarderò con calma C'è chi pensa di aver fatto scacco a Renzi Cantone è un nome che sicuramente può imbarazzare il Partito Democratico Più di Bersani, più Cantone di Bersani Ma secondo me sì Più Cantone di Prodi Sì, secondo me sì, perché Renzi lo sbandiera molto spesso, non dice Siete sparito Rodotà, Rodotà E' sparito Rodotà Il più grillino chi è? Il più grillino, il più grillino, guarda, non lo so, credo, Imposimato, insomma E poi c'è Di Battista che a sorpresa lancia l'ex Gargamella Bersani Ecco perché Ancora non conosciamo il nome del PD di Renzi o di Berlusconi Ormai è la stessa cosa Il Movimento 5 Stelle l'Assemblea ha fatto dieci nomi Tra l'altro dieci nomi anche diversi uno dall'altro E si esprimeranno i nostri iscritti Io ho proposto sia a Nino Di Matteo Il magistrato che combatte la trattativa Stato-Mafia E la trattativa Stato-Mafia c'è, c'è tuttora Basta guardare gli arresti di oggi in Emilia Romagna E anche Bersani Ho voluto fare un ragionamento trasparente Ho pensato che chissà che lui non possa mantenere leggermente Nonostante sia uno del PD che abbia quella storia Leggermente la schiena un po' più dritta rispetto a questo patto del Nazareno Che è un patto massonico Cioè loro si stanno nel segreto dei cittadini italiani Spartendo le risorse dell'Italia Tutto a vantaggio Della famiglia Renzi, Boschi, Verdini E di Berlusconi Che non vede l'ora di tornare in Parlamento Perché magari c'è un processo pendente sulla compravendita dei senatori Gli ha mandato un messaggino Bersani, l'ha ringraziata? No, assolutamente Ma voterà la rete come sempre Cioè io voglio proprio che capiamo Che i cittadini a casa capiscano che Mentre il PD ancora non ha un nome Probabilmente i deputati del PD riceveranno un SMS Non si sa da chi, forse da Verdini Il Movimento 5 Stelle fa questo Cioè fa entrare democrazia nelle istituzioni Trasparenza Fa una discussione libera I streaming sul Presidente della Repubblica E farà decidere gli iscritti Questa si chiama democrazia Partito Democratico ci diceva di scongelarci Sono loro che dovrebbero essere un po' più democratici A lei del SMS a Grillo l'ha mandato per dire questi due nomi di Matteo e Bersani? No Giuri? Lo giuro